Ben trovati a tutti carissimi a questo terzo incontro dei gruppi di ascolto della parola. Continuiamo il nostro cammino con il profeta Elia e in questo appuntamento iniziamo proprio con l'imperativo che Dio dona ad Elia. Va e va incontro al re Achab. È l'incoraggiamento di quel Dio che Elia sta conoscendo nella sua vita, che non ha ancora pienamente conosciuto, ma che lo invita ad assumere in pienezza la sua identità di profeta. Da tre anni ormai il popolo vive la carestia, che è il segno di questa allontananza del popolo da Dio, allontananza causata dalle scelte del re Achab e della moglie Gezzabere di venerare degli idoli e non il Dio di Israele, il Dio salvatore, il Dio che ha liberato il popolo dall'Egitto, il Dio amorevole che dona una terra feconda dove scorrono latte e miele. Ecco, Elia è il torrente di acqua viva, di acqua fresca, di acqua piena di vita ed è il torrente che è chiamato ora ad ridonare l'acqua viva al re. È interessante la scena che si presenta poi dopo l'invio di Elia da parte di Dio. È il dialogo fra il re Achab e il suo servitore Abdiah, uomo timorato da Dio, cioè quindi uomo che è rimasto fedele a Dio, è rimasto fedele alle indicazioni della Torah, indicazioni che invitano a non uccidere e a riconoscere la presenza viva di Dio. Questo uomo, nonostante che è servo del re, custodisce, protegge i diversi profeti che il re tentava di uccidere a causa anche della follia della moglie Gezzabele. Ed è interessante però qual è la vera preoccupazione del re in questo brano, che indica il paradosso del potere. Un governante dovrebbe preoccuparsi del suo popolo, del benessere dei suoi cittadini, della sua gente. Invece il re si interessa del benessere dei cavalli e dei muri, e quindi dei mezzi di cavalcatura, di trasporto, che servivano per i suoi diversi passaggi nel regno. Questo è il segno della povertà del re. È interessante però come in questa povertà c'è una nuova creazione, perché il re manda il servitore ad incontrarsi in una determinata zona. Il termine usato in ebraico è Adama, che è terra, da cui deriva Adam, cioè uomo, e quindi indica proprio questo andare verso questa zona, un andare verso una nuova creazione, che riguarderà sia Aqab sia Abdiah. La nuova creazione di Abdiah è l'incontro con Elia, un incontro che per ben tre volte Abdiah deve sapere riconoscere, se veramente questo uomo è Elia. Soprattutto la difficoltà di Abdiah è di accettare l'invito che fa Elia a lui, cioè quello di andare da Aqab a dirgli che Elia è qui, che Elia è presente. Ecco, questa è la grande difficoltà, perché Abdiah si trova combattuto dentro a un contesto di peccato, dove lui stesso alla fine rischia la vita. Ed è interessante alla fine qual è la motivazione per cui Abdiah si muove. Elia compie il giuramento davanti a Dio, davanti a Dio della vita. Lo compie anche con gli atteggiamenti tipici di chi doveva giurare. E questo indica l'incoraggiamento che Elia porta anche ad Abdiah stesso, a uscire fuori dalle diverse maschere che lui ha indossato, a essere sincero e vero davanti al Re. Re, che è in incontro con Elia, accusa Elia della gravità, insomma, della situazione che si è venuta a creare in Israele, e soprattutto della carestia. Quando i cittadini obbedivano ai comandi del Re, si pensava che le divinità punissero questo popolo. Invece è interessante notare il richiamo che fa Elia. Non è per colpa mia, ma per colpa tua, o Re. È per colpa di quello che tu stai commettendo, di quello che tu hai imposto a questo popolo. Il culto del falso Dio. Ed ecco l'invito che fa Elia al Re, quello di andare verso il Monte Carmelo, chiamato il Giardino di Dio, un monte di confine tra Israele e la Fenicia, un monte anche molto fecondo, luogo dove si rivelerà la potenza stessa di Dio, e soprattutto si rivelerà qual è la vera forza di Dio. La forza di Dio non sta nella grandezza, ma nella sua piccolezza e nella sua debolezza. Se i profeti rimasti fideli a Dio sono cento, ottocentocinquanta sono invece i profeti che veniano i Baal e altre divinità straniere. C'è la scoporzione, sembra che ci sia anche uno spareggio alla fine fra i due. Ma Dio piace abitare in piccolezza, quella piccolezza che rivela la sua grandezza intera. Ed è la stessa piccolezza che vive lo stesso lì, e che sente piccolo davanti alle missioni che Dio gli ha donato, eppure sarà lì stesso, con la sua piccolezza, ad aiutare il popolo a rincentrarsi sul vero Dio, sul suo sguardo amorevole, e da lì assaporare l'ebbrezza, ma anche la dolcezza di quell'acqua viva che è il Signore e che non è un idolo, che è il Dio della vita, che è il Dio che fa alleanza con il popolo. Ecco, da questo brano che abbiamo appena ascoltato possiamo rileggere anche alcune risonanze, anche per questo tempo di avvento. E lì assieme a un po' il Giovanni Battista che richiama alla conversione, che richiama il nostro cuore, la nostra vita, a saper accogliere l'acqua viva, l'acqua vera. E se Elia conduce il popolo a riconoscere l'acqua vera che è Dio, quest'acqua vera noi sappiamo chi è. È il Signore Gesù, con lui che disseta e dà la vita. La dà alla Samaritana, in quel pozzo nel mezzogiorno, la dà a noi sul monte del Golgotha, quando dal suo fianco, come dice il Vangelo di Giovanni, uscirono sangue ed acqua. E quindi, nonostante le accuse che anche Gesù stesso ha subito come Elia, tu sei la rovinia di Israele, l'accusa che Caifa lancia a Gesù, Gesù invece diventa l'acqua viva che disseta l'uomo e che strappa ogni nostra vita, ogni nostra condizione dalla morte. A noi, i discepoli del Signore, in questo tempo di alvento, tempo anche dove sperimentiamo ancora la prepotenza dei tanti poteri che ci accusano anche e che sono pronti alla critica facile, siamo chiamati invece a essere un po' come Elia, coraggiosi testimoni, missionari, profeti, di quel Dio della vita che strappa dalla morte, che si mette in ascolto del popolo, delle sue fatiche, dei suoi dolori, e che riconduce il popolo alle vere strade della vita. E per un cristiano che si prepara a Natale, la vera strada della vita da accogliere è il Signore Gesù, è la sua umanità e la sua divinità che si rivela pienamente per la salvezza dell'uomo. E allora ancora un buon cammino di alvento e, visto che ci siamo, anche un buon Natale a voi tutti. Grazie a 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 tutti.